Si sta facendo un grande lavoro di ripristino dell'alveo, di messa in sicurezza dei fiumi, è l'inizio perché in realtà siamo nella fase iniziale, stiamo lavorando per calare anche opere e oltre alla realizzazione delle infrastrutture che sono state danneggiate e delle infrastrutture che dovranno essere realizzate nuove, ci saranno opere per la messa in sicurezza del territorio. Dopo decenni di attesa, i lavori di ripristino dell'alveo sono una realtà e le popolazioni alluvienate possono finalmente tornare a non tremare ogni volta che piove. Il governatore, che recentemente si è pure ricatto sul posto per constatare di persona, sottolinea anche la velocità di un percorso che ha permesso di procedere con l'erogazione della seconda fase dei ristori destinati ai privati, cittadini e imprese, coloro che hanno subito danni a causa della calamità. In effetti, le strutture si stanno occupando della fase dei cosiddetti ristori pesanti, a seguito dell'erogazione effettuata lo scorso anno nei primi ristori di 5.000 e 20.000 euro. Si tratta di un percorso complesso, però tutto sommato è avvenuto anche in un tempo abbastanza ridotto perché se valutiamo il fatto che purtroppo gli eventi calamitosi risalgono a metà del mese di settembre, se valutiamo il fatto che quello è stato un periodo elettorale, che il governo si è insediato nel mese ottobre e novembre, che la finanziaria c'è stata a dicembre, dobbiamo anche considerare il fatto che in un anno e mezzo, oltre a liquidare le sommergenze, oltre a mettere mano ai ristori per le famiglie e per le imprese, prima i 5.000 e 20.000 euro e ora quelli aggiuntivi, si è messo mano alla sistemazione in emergenza dei fiumi, dei tratti di fiumi ritenuti maggiormente pericolosi e dall'altra parte si stava lavorando, si sta lavorando ad un progetto e ad una serie di opere che fanno parte di un piano straordinario che dovranno ridare sicurezza. Intanto un importante passo avanti è stato fatto anche per gli anticipi, per i ristori, per le attività produttive e agricole. Sono iniziate le liquidazioni delle prime somme per le imprese alluvenate, 721.000 euro destinate alle attività produttive e 158.000 euro alle aziende agricole. L'iter prevede che l'erogazione avvenga direttamente sui conti dei beneficiari ed è stata prevista l'anticipazione per poi poter erogare di volta in volta ulteriori fondi.